e buongiorno a tutti allora adesso andiamo proviamo ad andare a pesci pettine quindi volentino leggero nel bassissimo fondale parliamo di 4 5 metri 6 metri massimo con la PowerBot Competition abbinata all'Ocoma Geo 4000 adesso vi faccio vedere una cosa che mi è arrivata l'altro giorno da Olympus questi sono una coppia di terminali dedicata al pesce pettine o sudice è formata da tre tre ami già girelle con moschettone girella e girella con moschettone tre ami e credo che siano ami del numero 16 sì sì l'amo in misura numero 16 scritto anche sulla bustina e poi vi dirò come andrà a finire ok alle prossime ciao eccola questo è il primo pesce tirato su con i terminali di casa Olympus canna Okuma PowerBot Competition Okuma Joe 4000 è terminale dedicato alla pesca e pesci pettine di casa Olympus con ami del numero 16 noi continuiamo a pescare nooo nooo hai visto? ecco ancora l'efficacia del terminale olympus ancora per scipettine